E' stata accolta dall'amministrazione comunale la richiesta del delegato di Trani Autism Friendly di permettere alle persone con disturbo dello spettro autistico di accedere alla villa comunale nonostante l'emergenza da coronavirus. La precisazione sulla possibilità di allontanarsi dalla propria abitazione al fine di affrontare e risolvere le crisi comportamentali muniti di autocertificazione era già stata fatta dal governo nei giorni scorsi. Ed allora la disposizione firmata dal sindaco Bottare giunta nella giornata di ieri si potrà accedere alla villa comunale cittadina esclusivamente a tal fine e con autocertificazione supportati da diagnosi clinica specialistica nella fascia oraria dalle 9 alle 19. L'accesso potrà avvenire solo contattando il numero 328-61-85245 dalle 9 alle 10.45 in base ad una turnazione stabilita con l'arrivo delle richieste e previa sottoscrizione del modulo che sarà presto pubblicato sul sito del comune di Trani.